Amici di YouTube, ben trovati da Marco Ligori, è morto poche ore fa per un tumore al cervello, grave lutto per il mondo del cinema e prima di saperne di più vi ricordo che a 700 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, nelle scorse ore diciamo addio ad un grande del cinema, delle serie tv, ma anche ad un personaggio estremamente versatile che, come detto, è mancato nelle scorse ore a seguito di un tumore al cervello, un poeta, uno scrittore e un personaggio che abbiamo apprezzato in una serie tv di grande successo e con grande rammarico che il primo anno di Marco Ligori annuncia la scomparsa di Benjamin Zefania che avevamo conosciuto nella serie di successo Peaky Blinders, in questa serie Benjamin ha interpretato il personaggio di Jeremia Jesus in ben 14 episodi a cavallo tra il 2013 e il 2022, ma come detto Benjamin era anche uno scrittore e poeta molto talentuoso e molto apprezzato, ci lascia a 65 anni. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi sui canali YouTube, secondo canale di Marco Ligori e Marco Ligori, psicologia e crescita personale, il primo anno di Marco Ligori augura a tutti quanti voi una serena festa dell'Immacolata che possa questo giorno portarvi pace, serenità e soprattutto amore. Ciao a tutti.